La giornata dedicata a San Nicola scorre tra spiritualità e tradizione nel nome del santo ma c'è un'usanza in particolare che si tramanda da generazioni nelle case di Barivecchia offrire una tazza di cioccolata calda a chi si incammina tra i vicoli per andare a rendere omaggio al santo Dove stiamo andando? A vedere quelle delle cartellate Porzia è una vera e propria celebrità da Riccardo Scamarcio a Gianni Morandi sono in parecchia a farle visita per assaggiare le sue pietanze Noi che abitiamo a Barivecchia, ai familiari, anche agli amici è di nostra iniziativa preparare dei biscotti, cioccolato, il limoncello che dobbiamo offrire a chi viene da fuori Barivecchia Che vengono i nostri parenti, diciamo, da Bari Nuovo, come si dice e trovare i parenti che stanno a Barivecchia Allora il giorno di San Nicola ci riuniamo Oh, out in Nicola, non out in Anticamente, ovviamente, San Nicola di dicembre faceva freddo Allora cosa offrire di caldo? Quindi si dava la cioccolata calda E il gusto per le cose buone non conosce frontiere o confini Cartellate e orecchiette sono un souvenir gradito da portare anche all'estero Can we eat, I don't know, tomorrow or Aiutami con l'inglese Te li faccio asciugare bene bene così possono viaggiare Ok Poi quando arriva a casa si mette le figurine Non è un oggetto che poi... Si come il pane, il pane una volta comprando devi mangiare Sono porti, va male, diventa duro, diventa... Ok Grazie a tutti